Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La luce del Signore risplenda i nostri occhi attraverso la Sua parola e gli dirige i nostri pensieri, i nostri affetti, le nostre vite, non verso l'invecchiamento e non verso la morte, ma verso la pienezza della vita e dell'amore. Gesù in questi giorni, mentre l'anno liturgico volge al termine, si presenta a noi come colui che dà compimento ad ogni cosa, realizza le promesse dell'Antico Testamento e realizza il piano di Dio che creando l'uomo lo ha fatto a sua immagine e somiglianza e lo vuole portare alla perfezione, alla pienezza della vita. Sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza, che abbiate la gioia e che la vostra gioia sia piena, che portiate frutto e che il vostro frutto rimanga. Questo è il progetto di Dio su ciascuno di noi, su di te, su di me e su ogni creatura. Ma l'uomo non si trova in questa condizione perché il peccato ha interrotto quel processo di glorificazione dell'uomo, di trasformazione in Cristo e Dio non ha rinunciato al suo progetto. E la liturgia allora in questi giorni, mentre l'anno liturgico volge al termine, vuole dirigere la nostra attenzione verso la piena realizzazione delle promesse di Dio. Prima che Gesù venisse, tra gli ebrei, c'era una forte corrente che credeva intensamente alla risurrezione dei morti, cioè alla vittoria di Dio sul peccato e sulla morte e su Satana. Ciò avviene con la venuta di Gesù Cristo che dà inizio a questo nuovo mondo quando gli apostoli chiedono a Gesù «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cose ne avremo in cambio?» La risposta di Gesù «Voi che mi avete seguito nella nuova creazione». Gesù parla del suo ministero come una nuova creazione che è iniziata con la sua venuta e con la sua passione morte e resurrezione ma che dà pieno compimento e si realizza con la sua seconda venuta. Quando dice la lettera agli ebrei che Gesù tornerà una seconda volta ma non in connessione col peccato perché già ha sofferto per noi una volta per sempre ma per dare compimento ad ogni promessa di Dio. E quindi l'Evangelio di oggi ci presenta davanti ai fratelli il cieco di Gerico che supplica Gesù con una preghiera stupenda Gesù figlio di Davide «Abbi pietà di noi». Questa preghiera i monaci del deserto l'avevano adottata come una preghiera che loro ripetevano in continuazione «Ma d'agio ad agio Gesù figlio di Davide «Abbi pietà di me»» oppure semplicemente «Gesù abbi pietà di me». E quest'uomo cieco grida forte anche se gli astanti gli ordinano di tacere di non disturbare il maestro lui continua a gridare e Gesù si avvicina a lui e gli chiede «Cosa vuoi che io ti faccia?» Lo chiede «Lo fa venire presso di sé Signore che io riabbia la vista» e Gesù la tua fede ti ha salvato e gli ridona la vista. Questo cieco che vede fratelli è una persona storica tanto che viene nominato espressamente «Timeo figlio di Bartimeo». Qui non è un'ipotesi non è un personaggio mitico un personaggio storico che incontra Gesù sulla sua via e acquista la vista. Noi abbiamo tanti casi nella storia della Chiesa di persone non vedenti e il più famoso forse è rimasto quello di Padre Pio quella ragazza che non aveva gli organi visivi ma acquistò la vista e vide per il resto dei suoi giorni fino a tarda età pur non avendo gli organi visivi è impossibile vedere senza gli organi eppure lei vedeva perfettamente. Ecco questo cieco sta a indicare a tutti noi che è venuto il momento in cui Gesù vuole aprire gli occhi dell'umanità verso la realizzazione del piano di Dio non solo dar la vista a qualcuno che non vede o far camminare qualcuno che non può diambulare ma portare l'uomo alla perfezione dell'amore la pienezza della santità. Gli eventi di questi giorni fratelli di movimenti di guerre e via dicendo cercano di attirare la nostra attenzione verso la tristezza verso lo scoraggiamento no il Signore ci dice di guardare in alto quello che Lui sta realizzando al di là dei progetti umani e noi lo vogliamo seguire per questa strada infatti nella prima lettura dal profeta Geremia leggiamo una promessa del Signore di ricondurre i suoi da ogni angolo della terra e dice ecco li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra fra loro ci sono il cieco e lo zoppo la donna incinta e la partoriente ritorneranno qui in gran folla erano partite nel pianto io li riporterò tra le consolazioni e li condurrò a fiumi ricchi d'acqua per una strada dritta in cui non ingiamperanno perché io sono un padre per Israele Efraim è il mio primo genito in questa promessa è adombrata la seconda venuta di Gesù che dà compimento alla salvezza universale e di questo fratelli noi dobbiamo essere certi ai nostri giorni spesso siamo tentati di essere distratti dalle promesse di Dio ma il Signore ci richiama a questo e questa realizzazione il padre lo affida al figlio suo Gesù Cristo che consacra come nostro eterno sacerdote il sommo sacerdote dell'antica alleanza fratelli dice qui la lettera gli ebrei doveva offrire sacrifici per il peccato degli uomini per i peccati del popolo ma anche lui era peccatore allora doveva offrire sacrifici prima di tutto per se stesso perché provasse giusta comprensione del peccatore ecco l'eterno sacerdote Gesù che scende dal cielo si fa un uomo anche lui assaporla sofferenza e tradimento assaporla la morte per avere piena comprensione e piena compassione di ciascuno di noi noi abbiamo un grande sommo sacerdote che sa capire quindi le nostre infermità essendo stato provato anche lui in tutto al pari di noi fuorché nel peccato e Gesù quindi ha solidarizzato con noi perciò viene eletto sommo ed eterno sacerdote tutte le benedizioni di Dio vengono a te attraverso Gesù che è il figlio di Dio in Gesù il Padre si rivela pienamente così come lui è realmente Signore Gesù chi vede te vede il Padre chi ascolta il Padre chi segue te segue il Padre che ti ha mandato e ti ha proclamato sommo ed eterno sacerdote per far arrivare a noi tutte le sue benedizioni attraverso la tua umanità il Padre ha voluto benedirci in questo momento per quella grande comprensione e compassione che tu hai nel tuo cuore verso ciascuno di noi donaci quella grazia donaci di sperimentare la potenza della tua misericordia tu sei venuto a prendere su di te le nostre colpe i nostri peccati toccaci in questo momento Signore apri i nostri occhi come il cieco di Gerico e anche noi ti chiediamo fa che io veda fa che io abbia la vista ma che veda non solo le cose passeggeri di questo mondo ma quei beni eterni che tu hai preparato e realizzato per tutti noi a te sia gloria in eterno Amen Vergine Santissima dall'alto di cielo accanto al figlio tuo tu regni sovrano come regina del cielo della terra e il Padre si compiace di benedirci attraverso di te e di farci sperimentare il tuo amore materno per saper accogliere tutta la grandezza della sua misericordia dirige i nostri pensieri i nostri affetti verso Gesù tuo figlio nostro Signore e fa che apriamo gli occhi su di lui che si rende presente col suo Santo Spirito fa che lo vediamo liberaci dalla cecità del cuore che oscura la presenza del figlio tuo e ci riduci a contemplare unicamente le cose materiali le cose di questo mondo conduci ciascuno di noi a incontrare Gesù e fin d'ora a proclamarlo Signore Salvatore della nostra vita a lui sia gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli Amen e Gesù caro fratello caro sorella ti apre a volte apre anche gli occhi per dare la vista a chi non ce l'ha o a chi l'ha perduta ma ti vuole spalangare gli occhi del cuore della tua anima perché tu possi contemplare tutta la ricchezza come ci diceva l'Apostola Paolo in questi giorni dalla lettera agli Efessini possiate conoscere tutta la grandezza l'altezza e la profondità e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza che il Signore apri il vostro cuore e vi ricolme di questa visione e vi salsi di questa realtà Amen